Settima giornata Super Cup, Amma Gamma contro San Baldoria, risultato ancora solo 0-0, anche se siamo in una fase abbastanza avviata nel primo tempo. Se il passaggio è troppo lungo, finisce sul fondo, Amma Gamma soffre un po' di crisi risultati. Ormai è iniziato. La palla finisce tra le mani del portiere che rimette in avanti, la Broca, il ritorno, dopo le presenze nei W2W, se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque è ex giocatore, si porta il pallone in fallo laterale. Marino si lamenta Marino, D'Amato mette al centro, anticipato di pochissimo un attaccante, il pallone finisce in fallo laterale dalla parte opposta. Ancora Izzo, poi pallone rimesso ancora in avanti, un dribbling. Passaggio tra le linee, Pastore rimette al centro, passaggio di testa, ancora Izzo, il tiro di esterno la Broca. Ancora palla in avanti, il colpo di testa, esce il portiere. Marino, il tiro, il pallone finisce sul pallone laterale. E' il pallone che finisce sul fondo, di pochissimo. La Broca rimette in avanti a Ciccare Marino, anticipa bene Pastore, può un po' confusionare adesso le azioni. Infine il pallone viene stoppato benissimo da Izzo, cerca il passaggio a lungo a girare. Deviato di pochissimo, il pallone finisce in calcio d'angolo. A favore di San Baldoria. Palla alta sul secondo pallo per D'Amato. Prova il passaggio... Poi una serie di rimpaldi, infine il pallone finisce sul fallo. Chiriamo qui il collegamento.